Ma come giocatore? Ma come giocatore eh? Ah non è una Franco, hai 5 euro? Ma non so Sì che ce ne abbiamo No, io dove andate a lui No, no, tanto per dire Allora gente, c'è Franco Tu ti chiami? Ah non ti ricordi? No, perché era molto Luciana Franco e Luciana, venite I miei primi che l'hanno vista Omar, sì Omar Viene Franco Viene di là Viene da qui Viene da qui Viene da qui La mano Ma se si posa Alzi Si, sta a poca Troppo C'è una gamba, c'è una gamba no E' una cavata Oh Ah non hai fatto l'oltre di corte Si, perché c'è del giambone Sto scivando E' lì quando arrivi a... E' guardala invece di guardarla Dove hai fatti back Con cui può ringraziare Buongiorno Non è bello questo locker Sono ar Fredy Sono perso a cerimoniale Not yet Guardate da 21 anni Non ho capito cosa è questo dinheiro Ma nessuno mi ha dato una risposta. Che cosa è questo? Non c'è una risposta. Può darsi che c'erano due stati. Non si sa. Veramente, 21 anni, che faccio una guida, non ho capito. Vedevo un'altra nicchia, un altro. Vedevo la gente che prende i sassi e tirano. Se aggancia il sasso vuol dire che avete fortuna. Questa rompe. E appunto, intanto distrugge. Intanto invintano una cosa. Come questa qui. Scusami Franco, scusami Luciana. Oh, ma... Andiamo.